sì ragazzi io sono k e oggi giocheremo alla modalità jerry ice cream ciao siamo con fanny e io sono k scusate se ho detto k due volte non so perché perché hai chiesto di problemi come erano scelto botte quale mappa come non scelto botte si hanno scelto botte faccio sì faccio vedere io non scrivo perché devo far vedere io faccio sempre skip in ogni caso anche se non mi hai visto la cosa un genio in persona è la seconda mappa questa si è la seconda mappa giusto perchè brutto stituzione che bellissima ok in cominciamo non compriendo quello che dici ma nato tipo ho preso un colpato io mi spiego della colla il corpo ma guarda posto o c'è un colpo dove prende non lo fa prende il risultato dovrebbe dire dov'è che va usata la colla guarda che cosa va la chiave verde non ci vuole fare l'acqua stiamo scherzando tu non c'è un colpato che sono le pietre che ci sono con la fionda per fermare il tipo si a me serve a me serve da lo scoperto adesso dove c'è lo scoperto la colla sono po' più ingegno no ah no è bloccato cavolo io ho trovato la chiave gialla devo fare tutto il giro ma cosa vuol dire no devo fare tutto il giro come dice la chiave che aveva ah ma c'è il puntino che te lo dice la dè mi sa dove sarò andata diciamo vicino al tizio ti ho portato il giro prende il tizio si mi ha rotto il tizio si mi ha rotto l'ingranaggio prende il tizio va bene troppo la colla troppo la colla vedo il tuo cadavere oh no il cadavere del nostro tizio perchè c'è ancora lui eh sono ancora vivo mi ho perso la chiave non so il motivo sono ancora vivo ciao lo sai che si può rispondere una volta con 24 robots come con 24 robots si e ma la fox eh guarda che mi piace doveva usare la maledetta chiave aiuta c'è lui che è bruttissimo non ho capito oh i sassi i sassi devo prendere i sassi come sospettavo posso prendere soltanto sulla fionda ma dove sassi wow no dove va la chiave azzurra dove va la chiave azzurra di azzurra di azzurra che non so che c'è il puntino in teoria si dove ah io trovo la chiave azzurra no ce l'ho io la chiave azzurra no ce l'ho io la chiave azzurra c'è io è una forte si lo colpito si è messo giù e sta piangendo bambino sto scendendo dentro sono caduto dai bambini e dai bambini è davanti hai vissi che hai lì che devo andare come ti devi togliere tutti te devi togliere lo faccio andare qua viene tizio no, grazie è qua che dovevo andare i miei qualcuno l'ha sprovito ah, ci vado sulla butti di banane ah, bananas ah, bananas qua ci sono delle forbici, non so cosa servono eh, eh, eh vieni qua chiave gialla quanto sei banato? ah, le forbici servono che... qua 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 qua? quella io trovi la chiave rossa appena persa ah no mi chiamo quell'altro go 것이 di bananu eh ah ahahah ma non dico cos'è aiuto mi stai seguendo per un attimo l'avevamo baggato grazie a fenni io non ti libero ciao tu hai la fionda? no non prenderla fionda stupido ha preso la fionda? si ha preso la fionda ah sto vedendo da che cosa va bene è un genio guarda mi sto portando addosso me l'ha portato addosso sei fame ha infame spifoso ah ma se le spavano ancora c'è tu paghi in continuazione si problemi? si c'è veramente spifoso non sono ancora morto non sono ancora morto ecco il secondo te cosa servono io ah tu ho fatto la chiudere no 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 ma ciao è tutto stupido mi conto non costo i fornici che ti ho utilizzato in pizzo guarda 10 minuti mi vuoto mi vuoto no se vuoi ancora perché se sono visibili cinque si allora io vedo io vedo lui ci davanti a me lo la porta gialla ah che tristenza cosa 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 casa 2 1 in ok ma c'è lui 4 4 mai eger ecco dove serve la chiave e la keycard rossa serve nel codice perchè vediamo qui l'ingrenaggio e poi il codice ok mi sei seguendo a me grazie ecco no cavolo mi viene doppata adesso 5 ah ma ma ce ne dici quando viene doppata non ci credo l'ho aperto appena in tempo ah ce la prendo non ho già usato prendi per favore non l'hanno già usato sei lì non l'hanno già usato sono davanti alla plague e io fami che becco non so dove si trova c'è il puntero c'è il puntero maledizione c'è il puntero si dopo un po' tu mi fa vedere il genio a me lo faccio in solito mi fa di solito vedervi tu vuoi me lo fa di solito vedere giusto sono malato guarda non si sapeva subito me lo fa vedere giusto subito mi prego vieni e non so dove sei sono dove devi mettere la plank ah ho dovuto andare per il giorno io ho visto lui per un attimo eh ce l'ho io con po' te ve ne so io qua vieni andiamo di qua corri prima che arrivo col tizio subito mettila o moriremo tutti vai scappa scappa verde non ce l'ha nessuno ah ce l'aveva lui col tizio lo so ce l'ha con te freni si non lo vedo neanche si è baggato si è baggato lì guarda sulle scale ma che tonto ma che tonto che cosa è già usata qua ci dovrebbe essere una cosa che l'abbiamo ancora usato perchè hanno fatto gli omoglietti ah no non so perché ho congiato per me adesso mh passo di quattro ma io devo smettere di scivolare devo smetterla no sei ancora scivolata mi gioia in persona io sono abitato i giocarapigli eh senti non sono la vita passuta ancora vado contro uno e se il qui sei ancora baggato non credo si è ancora baggato ma ancora più baggato di prima guarda ah perfetto guarda qua c'è una batteria qua serve il coso non so cosa con ingranaggio e non sei più baggato aiuto ma tu sei malata fenni perchè hai preso la chiave verde che l'abbiamo giocata perchè pensavo che non l'avessero già utilizzata se vedi che era lì mi 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 credo gioco ma quando ha pagato inizio spiegato il signore quattro il botto oggi è un po' che sta colla anche in gioco sei troppi non lo so mia nonna ecco quello che vuole non è un progetto faccio andare a prenderlo sono i colpi l'obiettivo il testo per me giudizio ed ecco non chiamarmi più fanno altrimenti con un po' fanno il gusto di noi a due colpi perchè c'è un cane cosa sta incertando? io niente con chi stai riprendendo scusa e lo preso intanto meno zitto ah ok penso che non avessi preso non ti vedo non lo vedo all'inizio e poi si tizia l'abbiamo usato quella non capisce niente eh Penny ci manca soltanto la chiave eh si la chiave eh ma non te lo dice? ma non te lo dice? no no 8 7 niente bravo tizio vai te io ho preso la chiave così a cazzo e mi sono incassato mi sono incassato mi sono incassato ma ci manca soltanto non ci manca niente il pizzo all'ingrenaggio e perché? salve ancora la colla da qualche parte? ma vincere si serve per riparare dai manca mi sono scappato mi sono scappato quanto so con un cane capo rintesi no veramente sono col cagnolino anch'io io sono riuscito prima di te Penny per te c'è il cane che mi guarda malissimo no il cane non ti guarda malissimo ah ok no non capivo perché non voleva venire c'è noi diciamo cos'è che è stato floro completo dobbiamo fare anche la mio un milione poi wow ah io mi posso case shop mi quanto cavolo costano item vabbè gli item mi costano è parecchio anche vabbè facciamo play va io non so cosa prendere non mi fanno fare play prendo questo prendo questo perchè non mi fa fare play perchè non è ancora uscita gente ah no ecco perfetto Penny senti gli speech magari che mancano 5 secondi ah ecco devo comprare devo comprare devo comprare io devo comprare 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 vabbè si facciamo la prima mappa quindi non l'abbiamo ancora fatta noi giustamente ma c'è un infreddo che tra un po' devo anche andare eh lei ha pochi sono io eh no che schifo su sempre veramente che schifo missing ma chi se ne prega devo farlo per foto a vedere ecco il gelatoio malvagia e io che guardo lì al posto del testo spaventato con la faccia subito dentro mi noi che lo seguiamo noi che lo seguiamo una pizza da sempre più genio eh infatti vabbè mi cominciamo perchè non ho una pozione non ho una pozione non ho una pozione dove sovono fenni le da qualche parte mi sono spostato mi sono spostato quella pozione di invisibilità ma ah ma con lo shift corri quanto basta sto congelando non so perchè ho detto sta calentro ah ma tu hai la frusta dietro? no io non ce l'ho non ho la frusta guarda cosa ha poco schifo se ti fanno perchè ho fatto una palestra fermarlo? no? non è ovvio? eh ma io mi cucco sto e cosa doveva fermare quel gestione chiccone buon anno si vengono si vengono su un buon anno devo aprire la porta apro la mia prima porta io ho trovato la sua oh ho fregato non vedo niente è tutto freddo eh quando ci sono zone molto fredde te lo dico fenni cosa cavolo sto facendo? oh aiuto 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 ah se tu si trovi che mi chiede oh mio dio io tu non hai capito cosa ti è successo è vero cioè praticamente è in questo cielo dove mi stavo inseguendo il futuro tutta la mossa ho preso quello che mi sembriva che non so che mi faccio eh tu quando ti sei quel che cos'è? eh fenni ma che cavolo ho trovato una chiave ho trovato una chiave gialla che non si può prendere per questo problema e io c'ho dov'è la chiave gialla dove dovevo aprire io e se ti sguiri e se ti sguiri oh mio ma cosa c'è lì dentro? no devi venire ad aprire e se ti muovi magari fenni a venire ad aprire dove c'è la chiave gialla io ho aperto dove c'è la chiave gialla io ho bisogno della chiave gialla tu ce l'avevi la chiave gialla no? io avevo il coso proprio prima che potessi aprire con la chiave gialla no no perchè è da un'altra parte la chiave gialla adesso e qua da me e di là non posso è bloccato è qua dentro ma che vuoi che sbocca non ho capito mi eri sicuro di attivare qualcosa oh! fatto prendila pure penso mi lasci prenderla me ti ho vinto i sogni a vedere cosa c'è dentro mi fa paura quello che c'è dentro a mano piccino tu cosa servi chi troppo una bambina ah mi sembra che quella che si tratta tu hai trovato una scala di trovatori in canale tu hai trovato una scala di trovatori in canale io sto a tua scala io sto cercando il dove devo mettere questo robot ho trovato c'è il punto che non indice la bambina prendila lenta mezzo tipo non si vede un cacchio c'è la bambina che mi rai ha un po' poco schifo sono morto fenni non puoi pagare resta uno ok sto spedendo un po' troppi robux secondo fenni devo dire che è verità io ho la bimba insieme a me è anche una chiave è anche l'ultima chiave che serve qua ehm ho fatto praticamente tutto oggi ma perché prende sempre me prende sempre me e lo respawno per l'ultima volta però respawno no 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 io non posso respawnare niente mi ha ucciso a me mi ha sembrato per aprire la porta almeno ci hai fatto scappare no prendimi intanto si si prendimi prendimi ancora guarda io io ho salvato lei si si prendimi ancora un'altra volta intanto che sparono scopo mettila di pagare che poi ci servono quelli lì per altri volte per altre volte io sono scappato ci sono tutti che so scarsi io non puoi pagare 24 robe ma non ce li ho me li puoi regalare ma quanti robux hai scusa? 191 adesso me ne puoi regalare 90 scherzo 10 10 sai non posso non so come si fa managgia picco e vabbò mi prenderò questo ai dem ai dem vabbè vediamo un po' c'è ancora qualcuno che sta giocando fanny si perché uno si è baggato dentro un frigor praticamente io aspetto Gerry finalmente ho ucciso la tizia grazie io ma ancora vedo Gerry io si come è invisibile come è invisibile vabbè non aspetto più quanto ci sono ancora un tizio e una tizia un tizio dentro un frigo baggato l'ultimo l'abbè l'amm меся l'appena ha massacrato c'è un tizio che si sta baggando in altri posti tutto normalissimo scappa però devo andare mi dispiace spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre commentate quale quale cosa vi piacerebbe vedere i prossimi video lasciate un bel like iscrivetevi al nostro canale attivate tutte le campanile per non perdervi nessuno nostro contenuto e video adios ciao